Ti hanno mai sbattuto la porta in faccia? Oggi ci immergeremo profondamente nell'arte di ribaltare le sorti di fronte al rifiuto, ispirati niente meno che dal filosofo stoico Marco Aurelio. Immagina di vivere in un mondo dove ogni no non ti fa cadere, ma ti spinge ancora più avanti. Il rifiuto, che spesso fa male, può diventare il tuo più alto gradino verso l'autostima e la grandezza. Non si tratta di ingannare il destino, ma di capire che a volte il no dell'universo è un sì nascosto, verso qualcosa di migliore. Se ti senti trascurato, ignorato o sottovalutato, è ora di cambiare il copione. In questo video sveleremo nove potenti lezioni che ti insegneranno a sfruttare il potere del rifiuto. Rimani attento fino alla fine del video, perché non parleremo di teoria, ma di strategie e pratiche del mondo reale che puoi applicare nella tua vita quotidiana. Prima di iniziare, assicurati che questa saggezza raggiunga il maggior numero possibile di persone mettendo mi piace al video e condividendolo. Cominciamo ora insieme questo viaggio trasformativo. Sei pronto a convertire i tuoi rifiuti nelle tue più grandi vittorie? Iniziamo! 1. Ignorali. Anche quando la vita ti offre il ghiaccio dell'indifferenza, alza la tua posizione. Ignorare coloro che ti ignorano non è un atto meschino, ma una potente affermazione del tuo valore. Immagina questo. Qualcuno decide che non vali il suo tempo. Questo è il suo problema, non il tuo. Optando per non coinvolgerti, stai dichiarando valgo di più. È come girare uno specchio verso di loro, riflettendo silenziosamente il loro comportamento e mostrando loro che non ti tocca. Come farlo senza cadere nell'amarezza? È semplice. Concentrati sulla tua vita, sui tuoi obiettivi e sulla tua felicità. Immergiti in attività che ti arricchiscano, che sia la lettura, lo sport, l'apprendimento di una nuova abilità o semplicemente godendoti la compagnia di coloro che apprezzano davvero la tua presenza. Non si tratta di vendicarsi di qualcuno, ma di recuperare la tua energia e indirizzarla verso ciò che conta davvero. A volte il rifiuto fa male, ma invece di rimanere intrappolato in quel dolore, usalo come spinta per crescere. Costruisci una fortezza di autorispetto e lascia che la loro indifferenza si scontri contro di essa. Non solo stai superando il loro rifiuto, ma stai prosperando nonostante esso. Tale mentalità dimostrerà la tua maturità emotiva e rifletterà anche la tua forza interiore. Ricorda, il tuo valore non diminuisce a causa dell'incapacità di qualcuno di riconoscerlo. Rimani fedele a te stesso e permetti che le tue azioni risuonino più forte del loro silenzio. 2. Non reagire emotivamente. Il rifiuto può ferire, spingendoti a reagire emotivamente e lasciando che le tue emozioni ti dominino. Ma ecco qui un'arma segreta presa dal libro degli stoici. La serenità. Quando qualcuno ti ignora, è facile che la frustrazione o la tristezza prendano il sopravvento. Tuttavia, lo stoicismo, una filosofia tanto rilevante oggi quanto lo era nell'antica Grecia, offre un percorso diverso, abbracciare una risposta composta e riflessiva. Non si tratta di sopprimere i tuoi sentimenti, ma di non lasciare che ti controllino. Quando ti ignorano, invece di arrabbiarti o cercare approvazione, fai un passo indietro e chiediti perché ti infastidisce. Spesso il rifiuto in sé non è ciò che fa male, ma le nostre insicurezze personali. Qui è dove dobbiamo essere pratici. Se ti ignorano, respira profondamente e rifletti su perché quel momento non ti definisce. Lo stoicismo ci insegna a concentrarci sulle nostre azioni e risposte, non sul comportamento degli altri. Mantieniti educato e gentile. Se senti il bisogno di comunicare, fallo genuinamente, senza aspettarti nulla in cambio. Non si tratta di essere passivi, ma di avere il controllo sulle proprie emozioni. Riconosci che il tuo valore non è legato all'approvazione degli altri. Il tuo potere risiede nel modo in cui rispondi, non in come ti trattano. Adottare questa mentalità non è facile, ma è altamente utile. Dominando la calma, non solo affronti situazioni difficili, ma cresci, imparando che la tua pace interiore non dipende da una approvazione esterna, ma dalla tua fiducia interiore. Mostrare vera forza e resilienza è estremamente attraente. Le persone sono attratte da coloro che sono sicuri di se stessi e che non si sgretolano davanti all'indifferenza. Quindi, mantenendo la calma, non solo stai gestendo la situazione, ma la stai dominando, diventi qualcuno in grado di affrontare il rifiuto e trasformarlo in un mezzo potente verso la crescita personale. 3. Eliminalo dalla tua mente Quando affronti il rifiuto, padroneggiare l'arte del distacco diventa un'arma potente nel tuo arsenale. Non si tratta di dimenticare o fingere che il rifiuto non ti abbia ferito, ma di trasformare quell'esperienza in qualcosa di trasformativo. Inizia riconoscendo il rifiuto e senti nell'impatto, ma non permettere che si aggrappi ai tuoi pensieri. Poi, immagina il rifiuto non come un ostacolo, ma come un segnale di deviazione che ti guida verso nuovi percorsi e possibilità. Immergiti in attività che arricchiscano il tuo spirito e allarghino i tuoi orizzonti. Leggi libri che sfidino il tuo pensiero, pratica sport che mettano alla prova i tuoi limiti, o partecipa come volontario in progetti comunitari che ti offrano una nuova prospettiva. Questi non sono semplici diversivi, sono passi verso l'autoscoperta e la crescita. Ogni nuova esperienza ti modella, rendendoti più resiliente. Inoltre, coltiva intorno a te un cerchio di positività. Circondati di persone che ti ispirino e ti sostengano. Condividi le tue aspirazioni con loro. Queste interazioni promuovono un ambiente di crescita reciproca. Ricorda, il rifiuto non è un riflesso del tuo valore, ma un invito a reinventarti. Mentre procedi in questo viaggio, scoprirai che ciò che una volta sembrava un doloroso rifiuto era in realtà una spinta verso un cammino più soddisfacente. 4. Dimostra il tuo valore. Il rifiuto può ferire, ma è anche una prova della tua resilienza. Invece di lasciarti abbattere dal suo peso, consideralo come un'opportunità per mostrare la tua determinazione. La prossima volta che ti senti trascurato o ignorato, respira profondamente. Invece di lasciare che scaturisca in te l'autocommiserazione o il risentimento, canalizza quell'energia in azioni costruttive. Lavora su un progetto che metta in evidenza le tue abilità o guida una nuova iniziativa. Senza lasciarti scoraggiare dalle ombre del disprezzo, ricorda l'antico detto Quando una porta si chiude, si apre un portone. Non è solo retorica, è un piano d'azione. Il rifiuto non è un riflesso del tuo valore, ma una spinta ad orientarti verso dove sei più necessario. Se non ottieni un ruolo specifico, forse quello è un segnale per indirizzarti verso qualcosa che si allinea meglio con i tuoi talenti e passioni. Usa questo come un catalizzatore per rivalutare e riallineare le tue principali capacità. Si tratta di creare la tua storia di successo, dove ogni ostacolo sia un'opportunità per risorgere con più forza. Questo non significa semplicemente nascondere la delusione, ma accettare tutte le emozioni e procedere con grazia. La filosofia stoica ci insegna a concentrarci su ciò che possiamo controllare, le nostre azioni e reazioni. Quando affronti il rifiuto, pratica l'empatia sia per te stesso che per chi ti circonda. Forse quel collega o amico che ti ha ignorato sta lottando con le proprie insicurezze. Estendi la comprensione non come debolezza, ma come testimonianza della tua forza. Crescere, a partire da queste esperienze, riflettere su di esse e imparare, è cruciale. Diventerai come la fenice che emerge dalle ceneri del rifiuto con più forza e saggezza. 5. Interrompi il contatto Il silenzio non è semplicemente l'assenza di suono, ma uno strumento potente nel tuo arsenale emotivo, specialmente quando affronti il rifiuto. Immagina di essere stato ignorato o respinto. Il tuo istinto potrebbe gridarti di risolvere la situazione, di contattare e chiudere quella breccia. Tuttavia, qui devi cambiare prospettiva e abbracciare il silenzio. Non si tratta di giocare a giochi emotivi, ma di recuperare il tuo potere. Quando scegli di non reagire, di non bombardare con messaggi o chiamate, stai facendo un passo indietro. Questa pausa non è solo per l'altra persona, ma per te stesso. È un momento per riequilibrarti e ricordare che il tuo valore non è legato all'approvazione di qualcun altro. Questo silenzio è strategico e attivo. Non stai semplicemente aspettando, stai riflettendo e crescendo. Questo periodo di non contatto non è freddo né sconsiderato. È un confine che stai stabilendo per la tua pace mentale. Stai dicendo, mi rispetto abbastanza da non inseguire o supplicare. Questo approccio è molto potente, dice molto sulla tua autostima e fiducia. Considera il messaggio silenzioso che stai inviando. In un mondo dove chiunque si aspetta risposte istantanee, il tuo silenzio può essere intrigante, persino attraente. Dimostra che non ti scuotono facilmente, che hai una vita piena di interessi e priorità al di là di quel rifiuto. Non si tratta di far pentire l'altra persona o farla tornare strisciando. Si tratta di mostrare che sei saldo, centrato e non facilmente influenzato dalla validazione esterna. Questo approccio non garantisce un cambiamento nel loro comportamento, ma assicura un cambiamento nel tuo, rinforzandoti e preparandoti ad affrontare ciò che verrà, con grazia e compostezza. 6. Dimostra loro che sbagliano Non si tratta semplicemente di contraddire gli altri, ma di dimostrare a te stesso di cosa sei veramente capace. Si tratta di trasformare un no in combustibile per la tua crescita. Immagina che qualcuno dubiti delle tue capacità in un compito o abilità specifica. Questa è la tua opportunità per perfezionare quella capacità, non per cercare la sua approvazione, ma per superare i tuoi limiti. Immergiti nell'apprendimento, pratica instancabilmente e mostra un livello di competenza che nemmeno tu sapevi di possedere. Non si tratta di fare una grande dimostrazione ai dubbiosi, ma di costruire silenziosamente una fortezza di competenza e autostima dentro di te. L'impatto delle tue azioni più delle tue parole è ciò che conta. Non è necessario annunciare i tuoi piani o progressi, lascia che i tuoi risultati parlino per te. Se ti etichettano come poco creativo, intraprendi un progetto che mostri la tua creatività. Se ti considerano poco impegnato, fa sì che le tue azioni costanti siano la tua risposta. Questa rivoluzione silenziosa di automiglioramento non è una lotta contro le percezioni degli altri, ma una ricerca di eccellenza personale. E quando cambia la tua percezione di te stesso, esiste un'alta probabilità di dimostrare loro che sbagliano. In qualsiasi caso, non si tratta semplicemente di dimostrare loro che sbagliano, ma di ridefinire cosa significa il successo per te. E in questo viaggio, la più grande vittoria è capire che l'unica approvazione che conta veramente è quella che ti dai da solo. Continua a coltivare questa consapevolezza e ad agire di conseguenza, perché alla fine la tua valutazione personale è ciò che conta di più. 7. Esci e divertiti La vera essenza della vita brilla con più forza quando usciamo dalla nostra zona di comfort. Abbracciare la gioia non riguarda solo il divertimento, è una strategia per costruire resilienza. Quando affrontiamo il rifiuto, la reazione tipica è ritirarsi e immergersi nell'amarezza dell'esperienza. Ma ecco un'inversione di rotta. Contrasta quell'istinto cercando deliberatamente la gioia. Questo non significa ignorare i tuoi sentimenti, ma dar loro uno spazio nuovo per esprimersi. Allo stesso tempo, continua a impegnarti in attività che ti portano gioia e soddisfazione. Fai qualcosa che ami. Socializza con amici o familiari che ti fanno sentire apprezzato e supportato. Il divertimento non solo ti aiuta a superare momenti difficili, ma ti ricorda anche che c'è molto di più nella vita al di là di un singolo rifiuto. Ricorda che il tuo valore non è determinato da un singolo evento o dalla reazione di qualcun altro. Sii gentile con te stesso mentre affronti il rifiuto e sfrutta le lezioni che puoi imparare da queste esperienze per crescere e progredire. Con il tempo scoprirai che puoi trasformare il rifiuto in un'opportunità per diventare più forte, più saggio e più risoluto nel perseguire i tuoi obiettivi e realizzare il tuo potenziale. 8. Costruisci il tuo status sociale. Immagina di trovarti in una stanza praticamente ignorato, quasi invisibile. Qui risiede la tua opportunità nascosta. Trasforma questi momenti di rifiuto in catalizzatori per lo sviluppo personale anziché cercare l'approvazione esterna. Concentrati sulla partecipazione sociale. Attività come il fitness, l'esplorazione di hobby o le promozioni o i successi nella tua carriera non sono semplici compiti, ma strumenti per scolpire un te stesso più forte e resiliente. Quando condividi il tuo percorso, fallo senza cercare applausi, ma cercando connessioni. Parla dei tuoi interessi o successi, come un ponte per trovare altri che si identifichino con la tua storia. Non è una strategia per guadagnare seguaci, ma un sincero tentativo di connetterti con anime affini. Partecipando al volontariato o al networking, non stai solo aggiungendo punti al tuo curriculum, ma stai tessendo una rete di relazioni significative. Questa prospettiva è profondamente radicata nella filosofia stoica, dove la crescita personale e il contributo al bene comune sono intrecciati nella costruzione del tuo status sociale. L'intenzione è primordiale. Non si tratta di cercare popolarità, ma di imbarcarsi in un viaggio verso una versione migliorata di te stesso. Ogni passo che fai deve essere un passo verso il miglioramento, con un effetto domino che beneficia la comunità. questo cambio di prospettiva è essenziale. Non si tratta di essere visti, ma di vedere il proprio sviluppo e al tempo stesso aiutare gli altri a crescere. Questa mentalità stoica diventa uno strumento potente per navigare nel mondo moderno, trasformando il rifiuto in una potente onda di trasformazione positiva. 9. Agisci come se non esistessero. Quando ti trovi di fronte a qualcuno che ti ignora ripetutamente e senza rispetto, a volte la risposta più potente è il silenzio. Non si tratta di essere meschini o freddi, ma di rispettare la propria pace interiore. Se qualcuno sceglie di ignorare la tua presenza, lascialo fare. Non sprecare la tua energia cercando di attirare la sua attenzione o avviare una conversazione. Focalizza la tua attenzione in un contesto sociale che la merita di più. Ciò potrebbe significare rivolgersi a qualcuno che apprezzi veramente la tua compagnia e avviare una conversazione lì. Si tratta di riconoscere che il proprio valore non è definito dal riconoscimento degli altri. Nelle interazioni inevitabili con chi ti ignora o non ti rispetta, mantieni professionalità, conversazioni brevi e concise e senza approfondire argomenti personali. Non si tratta di mostrare superiorità ma di prendersi cura del proprio benessere emotivo. Se l'indifferenza persiste, considera la possibilità di allontanarti. Questo non è un segno di debolezza ma una ritirata strategica. Riconosci che la tua energia è meglio investita in relazioni e attività che ti portino gioia e crescita. Scegliendo di non partecipare a un conflitto unilaterale, non solo eviti di perdere energia ma ti muovi verso opportunità più promettenti e uno stato mentale più tranquillo. La tua risposta all'indifferenza non è un segno di debolezza, ma un testimonio della tua forza e del tuo rispetto verso te stesso. In conclusione, affrontare il rifiuto richiede una combinazione di resilienza emotiva, autoconsapevolezza e strategie pratiche. Utilizzando queste lezioni e adottando un approccio positivo, puoi trasformare il rifiuto da un ostacolo in una risorsa per la crescita personale e il successo. Sì gentile con te stesso lungo il percorso e ricorda sempre il tuo valore intrinseco. Con il tempo e la pratica diventerai sempre più abile nel gestire il rifiuto e trasformarlo in un'opportunità per diventare la tua migliore versione. Speriamo con tutto il cuore che il video ti sia stato utile e che abbia arricchito la tua anima. Iscriviti al canale Dose Mentale per non perdere nessun contenuto simile e ci vediamo nel prossimo appuntamento.